Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, venerdì 18 dicembre, si venera San Graziano. La famosa opera di Gregorio racconta che nell'anno 250 furono inviati da Roma sette vescovi per evangelizzare la Gallia. Fra questi vi era Graziano. Graziano si fermò nella Gallia e predicò la fede cristiana per circa 50 anni. Inizialmente incontrò una grande ostilità da parte degli abitanti, tanto da essere costretto a celebrare i riti nelle catacombe. Quando morì fu sepolto in un cimitero cristiano. Un secolo dopo San Martino traslò le sue spoglie nella chiesa costruita dal vescovo San Lidorio, sulla quale venne poi costruita una cattedrale, inizialmente dedicata a San Maurizio e dal 1357 dedicata a Graziano. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa. Lo facciamo in apertura con le notizie nazionali e dal mondo, iniziando dai siti della Repubblica e del Corriere della Sera. Vediamo in apertura la Repubblica, oggi apre con il vertice UE, Renzi attacca su rigore e migranti, no a Unione Europea e a guida solo tedesca. Brexit, apertura di Merkel a Cameron, possibili in futuro modifiche ai trattati. Crack Bank, cantone gestirà gli arbitrati, accuse ai manager di Etrugia. C'è anche Boschi, oggi alla Camera la mozione di sfiducia contro la sinistra. In breve Pechino, secondo allarme rosso per l'inquinamento, durerà da domani a martedì e Parlamento UE dice sì a nozze gay, ma no a maternità surrogata. In Spagna le prime elezioni all'italiana, a quattro partiti forti, servirà una coalizione domenica il voto. Ed ancora, ONU si ha risoluzione per lo stop ai finanziamenti, asse Mosca-Washington, le sanzioni colpiscono chi aiuta i iadisti. Strage di San Bernardino, in carcere l'amico di Ferruc, che comprò le armi, oggi l'incontro tra Obama e i familiari delle vittime. In USA arrestato, Martin Screlli, il finanziere che speculava sui medicinali, aumentò del 5.000% il prezzo di un farmaco per la cura dell'AIDS. Blacklist di ebrei sul web indaga la Procura di Roma, in elenco giornalisti, scrittori e attori, da Saviano a Mentana, da Mimund a Faenza. Dove vai sola? Una ragazza a Roma, gli apprezzamenti delle forze dell'ordine, il Report TV, il Giubileo, la sicurezza e i maschi italiani. Ed ancora cinema, italiani fuori dagli Oscar, escluso non essere cattivo, il film possumo di Caligari, prodotto da Mastandrea, non ha superato l'ultima selezione. Falsi e inciucioni, consulta la rivolta del popolo grillino, ha vinto il metodo 5 Stelle, assicura il blog di Grillo, ma la base contesta l'intesa coidem. Madia per gli statali, finita l'epoca della retorica sui fannulloni, concorsi necessari, assunzioni trasparenti, modifica l'articolo 18, non può riguardare la pubblica amministrazione. Renzi, dialogo con Forza Italia, se abbandona la linea estremista, su consulta con i 5 Stelle, intesa istituzionale. Riforma Rai, manca il numero legale, voto Senato slitta settimana prossima. Ed ancora pensioni, sindacati uniti contro la legge Fornero, urge una contro riforma, CGL, Cisle, Will a governo, senza risposte, noi ancora in piazze. Assemblea è prevista a Torino, Firenze e Bari. Cassa depositi e prestiti, 160 miliardi per enti, infrastrutture e imprese, presentato il documento strategico 2016-2020. Il Vescovo di Mazzara del Vallo, indagato per appropriazione in debita, gli si contestano 180 mila euro, inquisito ex economo della diocesi. Roma, il concertone di Capodanno si farà, via libera eventi in periferia, l'annuncio di Asso Musica, iniziativa E4, capolinea metro. Aereo perde una ruota in fase di decollo, atterraggio d'emergenza a Catania, la ruota finita su una spiaggia deserta, ed ancora in breve, a Gela, tassista ucciso a colpi di pistola, davanti al sagrato della Chiesa Madre. Madre Teresa, il Papa dal via libera alla canonizzazione, riconosciuto il secondo miracolo attribuito alla suora dei poveri. Putin contro Ankara si sta islamizzando, provino ora a volare sulla Siria, provino scusate ora a volare sulla Siria, scambio di complimenti con Donald Trump. In Libia, in Marocco, firmato accordo ONU per governo di unità nazionale, terrorismo, Africa dell'Ovest vieta il velo integrale, la decisione dei 15 paesi per prevenire attacchi kamikaze. Strage di Parigi, i terroristi hanno usato le app criptate, Whatsapp e Telegram, Brasile blocca per ore Whatsapp, non aiuta, indagini, poi lo riapre. Ucciso un giornalista siriano in un agguato, Aid Lib denunciava i crimini dello Stato Islamico. Lettera di minacce con proiettili al Ministro Orlando, ti tagliamo la testa. Ed ora passiamo al Corriere della Sera, vediamo come apre le prime notizie riportate sul sito, ilcorriere.it. Vediamo in apertura, il Corriere apre con l'annuncio del Premier Renzi, sulle banche arbitrati a Cantone, la terza matassa in pochi mesi. Ed ancora, vediamo in breve Mosca, Putin in Turchia, islamizzazione strisciante, provino a volare sulla Siria, lo show dello Zar. vediamo ancora in basso, un attimo per il caricamento del sito, vediamo le notizie riportate, eccoci, quindi in apertura le banche, e subito dopo il terrorismo, consiglio di sicurezza ONU, nuove sanzioni per chi fa affari con l'Isis. il testo di USA e Russia è stato approvato all'unanimità, i terroristi continuano a diversificare le fonti di sostentamento, al punto che l'Isis oggi ha costruito un impero multimilionario, ha detto il segretario generale dell'ONU. ed ancora, vediamo in centro del sito, qualche piccolo problema con il caricamento, eccoci, vediamo ancora Bruxelles, Renzi, non può essere a guida tedesca, serve più collegialità, per quanto riguarda la Chiesa, Madre Teresa sarà canonizzata, così come abbiamo visto sulla Repubblica, il Papa riconosce il miracolo. Francesco, nel giorno del suo compleanno, riconosce la natura divina di una guarigione miracolosa, la sua ora, morta nel 1997, dovrebbe essere canonizzata il 4 settembre, 36 anni fa, ricordiamo, il premio Nobel per la pace, a Madre Teresa. Domenico Mogavero, il vescovo di Mazzara del Vallo, come abbiamo visto, è indagato per appropriazione in debita, si sarebbe appropriato di 180 mila euro, con accredito di somme e assegni, intestati alla diocesi, girati sul proprio conto, indagato anche Don Franco Caruso, che gestiva le finanze della stessa diocesi. ed ancora vediamo a Di Maio, del Movimento 5 Stelle, Cantone, operazione mediatica, e va all'attacco di Banca Italia, il vicepresidente del Senato, quello di Renzi, e il governo con il più alto spread, tra parole e fatti, e sulla consulta, vinto il nostro metodo, di solito il PD, cerca accordi sotto banco, con Berlusconi, e questo è quanto ha appunto dichiarato. ed ancora, razzismo e odio, una blacklist di ebrei sul web, indagine della procura di Roma, i reati ipotizzati, per il momento a carico di ignoti, sono minaccia e diffamazione, con l'aggravante dell'odio razziale, tra i nomi nella lista apparsa sul sito di Radio Islam, i giornalisti Mentana, Lerne e alcuni imprenditori. E l'accordo Libia, nasce il governo di unità nazionale, per fermare il caos, il caso giudiziario, Fondo Monetario, Lagarne, rinviata a giudizio, per il caso Tappi, l'accusa nei confronti del direttore, del punto FMI, e di negligenza, nell'arbitrato, che ha portato il versamento, da parte dello Stato, all'uomo d'affari, di un risarcimento, di 404 milioni di euro. In Sicilia, Catania, aereo di colla, e perde ruota, che finisce sulla spiaggia, nessun ferito, né danni, agguato, a gela tassista, ucciso, tra la folla, davanti al sagrato della chiesa, l'uomo, 56enne, con precedenti penali, si trovava in pieno centro, è stato raggiunto, da due persone in moto, con il viso nascosto, da caschi integrali. E a Modena, sgarbi operato, ma inarrestabile, mandatemi, i truppi in ospedale, dal malore in autostrada, all'intervento d'urgenza, al cuore, potevo morire, ma non era da me, andarmene al casello di Modena, questo è quanto ha scritto, poi sul social, ed ancora, vediamo, in Vaticano, Papa, festa per i 79 anni, con i ragazzi, di azione cattolica, 60 ragazzi, ricevuti in Vaticano, per il tradizionale scambio, di auguri natalizi, portano al pontefice, una torta. Ed ora, passiamo invece, al messaggero, vediamo, in apertura, la prima pagina, le stiamo sempre, sulle notizie nazionali, e dal mondo, vediamo la prima pagina, del messaggero, come apre oggi, apre con, in prima pagina, Renzi, basta, uè, a guida tedesca, il premier attacca Berlino, serve un'Europa con più collegialità, meno austerità, e più crescita, e accusa le imprese tedesche, fanno affari con i russi, nonostante le sanzioni, in nodo migranti. In centro pagina, la fotonotizia, protesta degli urtisti, monumento assediato, il Colosseo circondato, dagli urtisti appunto, turisti sequestrati, Roma, umiliata, dagli abusivi, e banche, gli arbitrati a Cantone, Trudia, nel Milino, 14 società, all'anticorruzione, decisioni sui rimborsi, oggi, voto sulla Boschi. Entriamo all'interno, quindi, in primo piano, il ciclone Renzi, sulla cancelliera, il premier, l'Europa, non può essere, solo a guida tedesca, serve collegialità, stop, all'austerità, attacco alle imprese, di Berlino, che fanno affari, con la Russia. E sulle impronte, scontro con l'Europa, al Fano, inserire nelle liste, gli afghani, congelata l'ipotesi, di applicare, una retroattività, di sei mesi, agli immigrati, in attesa, di lasciare l'Italia, procedura di infrazione, uè, per mancato, fotosegnalamento, il governo, eseguito, sul 77% degli arrivi, ed ecco, i controlli, e la foto. Vediamo ancora, migranti, blitz contro l'Italia, date a noi le vostre quote, documento del Lussemburgo, per togliere a Roma, la possibilità di trasferirli, in Europa, pressioni di Svezia, Francia e Germania, per avere più margine, nei ricollocamenti, sono 160, le migliaia di, iracheni, siriani, e eritree, attualmente in Grecia, in Italia, in attesa di essere ricollocati, 154, invece il numero, dei richiedenti asilo, che hanno lasciato l'Italia, a fronte dei quasi 40 mila, che dovrebbero partire, in due anni. Svolta in Libia, firmato l'accordo, per un governo di unità nazionale, il documento siglato in Marocco, dei vertici dei parlamenti, e sono 28 i paesi, Mattarella, Italia decisiva, Putin contro la Turchia, troppo islamica, ONU, sanzioni per chi fa affari con l'Isis, unanimità sullo stop, ai finanziamenti, destinati al califato, e dal califato alle milizie libiche, tutti gli ostacoli contro la pace, dall'intesa, tagliata fuori una parte, numericamente troppo rilevante, ipotesi di operazione militare, da parte degli inglesi, sarebbero pronti, mille uomini. e banche, Renzi a Cantone, la gestione degli arbitrati, il premier massima severità, i truffati riavranno i soldi, Visco va da Mattarella, oggi la mozione del Movimento 5 Stelle, contro Boschi, opposizione divisa, Forza Italia uscirà dall'aula. Le norme, le decisioni alla Camera arbitrale, dell'anticorruzione, struttura ANAC pronta, la norma resta da definire. E vediamo ancora in primo piano, l'indagine, in Etruria, ecco le 14 aziende favorite dai finanziamenti, un reticolo di spa e cooperative collegate, all'ex presidente Rosi, in evidente conflitto. Il CSM, aperto un fascicolo sul PM Rossi, nel mirino la consulenza con Palazzo Chigi. E vediamo gli scenari probabilistici, bocciati tre volte, dalla Unione Europea, in Abruzzo, chiesto il sequestro preventivo. La polemica, nati con lo scopo di tutelare i piccoli risparmiatori, sono stati poi giudicati del tutto inefficaci, anche dall'ESMA. Ed ancora il caso, saltata la riforma della RAI, assenze e segnali al governo, slitta la prossima settimana, il varo previsto per ieri pomeriggio al Senato, banchi vuoti, solo cinque centristi in aula, tensione con Alfano, il nodo rimpasto. Vediamo il sommario, il fattore weekend, svuota le file dell'opposizione nel centro-sinistra, accuse anche contro Grasso. Vediamo il centro-destra, Forza Italia, guerra tra i capigruppo, ma sotto tiro è Berlusconi, terremoto tra gli azzurri dopo la De Black, consulta caos in periferia, dubbi di Salvini, flop dei club Forza Silvio, il leader ne voleva 12.000, invece sono poche decine, casse vuote. Il personaggio, ischemia per sgarbi, operato mezz'ora e sarei morto. E ancora il caso, Colosseo bloccato dagli ambulanti, ingressi sbarrati e turisti, in ostaggio mattinata di follia a Roma, il monumento sequestrato dagli ortisti, come vediamo nella foto, visitatori spintonati, la sovrintendenza, c'erano anche i centuroni. E l'intervista, vediamo al direttore del Colosseo, reato interrompere il pubblico servizio, oltre alla figuraccia, davanti al mondo. e dal giubileo flop alla Roma, l'anno nero della capitale, il Colosseo è l'ultima perla dell'escalation, delle grane, Buche, Mazzette, Guano, Garzia. Non resta che sperare nelle elezioni e nella candidatura alle Olimpiadi 2024. Salvataggio, NILVA, vediamo l'Italia nel mirino, per aiuti di Stato, la Commissione Europea, pronta ad avviare un'inchiesta, sotto accusa alle risorse estanziate, dai decreti governativi. Nel taglio basso, Padoan, più deficit per la sicurezza, ma secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, la legge rischia lo stop, manovra verso il sì, senza fiducia. Vediamo nelle cronache, l'inchiesta refurtiva a Roma, tre carabinieri in carcere, sono accusati di concussione, avrebbero sottratto una parte dei soldi sequestrati, nel campo nomadi di Tor De Censi a Roma, i militari si difendono, controlliamo costantemente quella zona, questa è una ritorsione per il nostro lavoro. L'indagine partita dalla denuncia di una donna, cambiato il verbale, dopo un controllo nella mia roulotte, questo ha dichiarato. Bottino spartito con i nomadi, due agenti arrestati a Milano, furti alla stazione, i danni dei turisti, i poliziotti alla banda Rom, o ci date i soldi, o vi togliamo i vostri figli. E in centro vediamo la fotonotizia, madre Teresa canonizzata, c'è l'ok del Papa. Andiamo avanti, sempre nelle cronache, a Manchi in Curia, Buffera sul Vescovo, a Mazzara del Vallo, appunto Monsignor accusato di essersi appropriato, di 180 mila euro, è noto per le sue battaglie a favore dei migranti. La difesa fu lui stesso a fare le denunce, quando si accorse delle anomalie sui conti, sotto inchiesta anche l'ex economo. e blacklist di ebrei in chiesta a Roma, così come abbiamo visto sui siti, ancora giusto processo per i minorenni, ecco le nuove regole dell'Europa, una svolta sul piano dei diritti, è un atto di maturità. E la prima pagina dedicata all'economia, del GDP via al maxipiano da 260 miliardi, sotto la guida di Costa Magna, in Italia il CDA Vara, un progetto che rivoluziona la mission della cassa, diventata istituto di promozione, quattro le direttrici di sviluppo, enti locali, imprese, infrastrutture, real estate, fondi diretti per 160 miliardi per gli altri reperiti sul mercato. E il decreto casa scatta il prestito per gli anziani. Per quanto riguarda la svolta, la svolta invece vediamo nel sommario il fondo strategico, darà vita a un CGR con l'obiettivo di attrarre aziende in cerca di risorse e destinate alla borsa. E con la prima pagina dedicata all'economia, ci fermiamo per il consueto appuntamento con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it, abruzzometeo.org e quindi con le previsioni del tempo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora Giovanni, per oggi e per questo weekend quali sono gli aggiornamenti? Ma guarda, diciamo che la situazione meteorologica continua ad essere caratterizzata dalla presenza di una vasta area di alta pressione che si estende dalla penisola iberica sull'Europa occidentale e su gran parte del Mediterraneo centrale. Quest'area di alta pressione protegge la nostra penisola dall'arrivo di perturbazioni e continuerà a favorire condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, anche sulla nostra penisola. Tant'è che dalle prossime ore e nel corso del fine settimana assisteremo ad un'ulteriore rimonta di un promontore di alta pressione verso la nostra penisola e ciò garantirà ancora tempo stabile e soleggiato ma attenzione alle nebbie che potranno interessare soprattutto le zone interne nei principali balli della nostra regione durante le ore più fredde della giornata. Attenzione anche alle gelate nell'Aquilano perché le temperature sono al di sotto dello zero ma le temperature sono previste in aumento soprattutto sulle zone collinari altocollinari e montuose perché proprio grazie alla presenza dell'alta pressione. Quindi non ci saranno sostanziali variazioni nei prossimi giorni perché è prevista addirittura un ulteriore rafforzamento di questa struttura di alta pressione sul Mediterraneo centrale quindi sulla nostra penisola e ciò favorirà anche un ulteriore aumento delle temperature sulla nostra regione con intensificazione delle foschie e delle nebbie invece nelle pianure e nelle valli quindi ci saranno le cosiddette inversioni termiche non si prevedono perturbazioni di rilievo Elisa anche probabilmente nel corso del fine settimana di Natale quindi tra Natale e Santo Stefano comunque potrebbe giungere un sistema nuvoloso comunque una nuvolosità che non dovrebbe produrre fenomeni di rilievo perché l'alta pressione inizierà gradualmente ad attenuarsi ma sarà un'attenuazione soprattutto temporanea che favorirà probabilmente degli annuolamenti tra Natale e Santo Stefano si tratta ovviamente questa Elisa di una pendenza da confermare nel corso dei prossimi giorni quindi Giovanni nessuna precipitazione nevosa per Natale? no assolutamente anzi fortunatamente dico abbiamo avuto il peggioramento di fine novembre che ha dato a favorito copiose nevicate sulla nostra regione anzi ti segnalo anche il fatto che di neve naturale si scia soltanto in Abruzzo sui rilievi dell'Appennino Centrale perché lì ci sono state le precipitazioni più intense soprattutto a fine novembre mentre scarseggiano le precipitazioni e non c'è neve sull'arco alpino e questa è una situazione davvero insolita e anomala si scia soltanto grazie ai cannoni sparaneve quindi tutto ciò dice lunga soprattutto nel periodo di Natale è quello che dovrebbe essere più proficuo dal punto di vista economico per gli operatori del settore fortunatamente in Abruzzo la neve c'è sulle nostre montagne anche se ovviamente mancano le precipitazioni su tutta la nostra penisola è una situazione ripeto anomala quella che stiamo attraversando in questo periodo e continuerà ad essere tale almeno fino a dopo Natale fin dopo Santo Stefano non si prevedono sostanziali variazioni poi non possiamo spingersi oltre perché sai benissimo che le previsioni a lungo termine non si possono fare non si possiamo spingere di là dei 6-8 giorni come tendenza generale mentre per un'attendibilità insomma migliore non si possono superare le 72 ore quindi insomma se ne leggono tante poi su internet sui media di situazioni previste per la Befana per l'anno nuovo per gennaio febbraio insomma sono tutte false notizie quindi per sapere che tempo fa bisogna aggiornarsi giorno per giorno e seguire gli aggiornamenti perché ripeto non si possono fare previsioni al dell'abile 72 ore e ci possiamo spingere al massimo 4-6 giorni ma a livello generale Elisa certamente noi lo facciamo con te giornalmente io ti auguro una buona giornata e buon lavoro Giovanni grazie Elisa una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 e io ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo e attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma potrete così postare commenti porre domande ed essere soprattutto sempre aggiornati in tempo reale delle condizioni meteorologiche ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria a tra poco eccoci rientrati alla seconda parte di mattino 6 continuiamo la nostra rassegna stampa lo facciamo con le notizie regionali iniziamo dal centro dalla prima pagina dedicata alla provincia di Pescara l'Iquami in mare ha processo in centro pagina salva 14 persone in mare la fotonotizia ha premiato negli usa il coraggio del pescarese cipolla nelle cronache processo su pozzi avvelenati i bussi bis chiesti danni per 23 milioni di euro in Francavilla licenziato minaccia di buttarsi dal comune in Pescara invece anche un pescarese sul set di Star Wars ed ora vediamo la prima pagina dedicata invece alla provincia di Chieti Lanciano e Vasto vediamo in apertura carichieti 100 milioni al territorio nella notte l'accordo sugli esuberi e sui giorni della solidarietà nel taglio alto invece Natale con le stelle domani ricettario dei chef più premiati gratis con il centro e il libretto 36 piatti dall'antipasto al dolce 84 pagine torniamo alle notizie in centro pagina la fotonotizia paura Francavilla resta senza lavoro e minaccia di gettarsi nelle cronache cantina tollo verna presidente per 77 voti ad Ortuna il nuovo quindi direttivo invasto croce rossa l'asl ci deve 60 mila euro e sempre a vasto finisce fuoristrada ragazza e grave passiamo ora alla prima pagina invece dedicata alla provincia di Teramo vediamo l'apertura del centro vediamo se riusciamo eccoci ad aprire vediamo la prima pagina dedicata appunto alla provincia di Teramo del centro se riusciamo vediamo un attimo piccolo rallentamento della rete bene non riusciamo ad aprirla continuiamo con le notizie regionali torniamo al messaggero vediamo la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo e quindi in apertura eccoci in prima pagina vediamo l'apertura del messaggero Roma salva gli ospedali minori sanità tavolo di monitoraggio rango dei capoluoghi le sedi di Avezzano Vasto e Lanciano nessun declassamento per Sulmona Atri Sant'Omero Giulianova Castelli Sangro e Penne cultura e strade a notte fonda la pioggia di soldi vendamenti all'emiciclo alle 4 di mattina Movimento 5 Stelle spartizione la replica ridistribuzione vediamo la fotonotizia stragi di sangue tragedia tra Teramo e Montorio frontale muoiono marito e moglie poi vedremo la notizia all'interno e Roma appunto riconosce 13 ospedali sanità all'ultimo race il tavolo di monitoraggio fissa metà gennaio come data certa per l'uscita dal commissariamento e detta nuovi passaggi tecnici Berlusconi il diktat pagano non si tocca ed ancora in breve cultura e strade alle 4 di mattina piovono soldi in aula per quanto riguarda invece i punti nascita Paolucci resta cauto nonostante la lettera per Atri solo sul Mona può realmente farcela prima pagina dedicata all'Aquila c'è anche la Corte dei Conti per Affittopo l'indagine contabile mentre il processo penale va verso la sentenza inviti a dedurre per l'ex rettore di Olio e l'ex DG del Vecchio nel Mirino i canoni fuori controllo per le case degli universitari e la ristrutturazione e le ristrutturazioni gonfiate dei capannoni per le sedi della facoltà la condanna 18 anni a due marocchini per lo spaccio di eroina e cocaina riconosciuta l'associazione a delinquere il traffico venne smantellato dai carabinieri nel taglio basso il fronte diviso porta Varete inizia l'esodo dei condomini 5 su 17 disponibili a muoversi il dottor Facchini felice di contribuire alla valorizzazione della mia città vediamo all'interno Avezzano bollette dell'acqua caccia ai morosi il consorzio acquedottistico marsicano illustrato ai sindaci le modalità della imminente lotta all'evasione l'obiettivo è quello di rintracciare entro l'anno prossimo almeno 2000 utenze sommerse e mettere a posto i conti sempre ad Avezzano accorpamenti Confindustria inaugura la sede marsica sul Mona droga preso con la coca è scarcerato l'ex portiere torniamo ad Avezzano auto in fiamme forse è incendio doloso via la malfa paura tra la gente a 24 chiusa alle 18 per un bus a fuoco sul Mona non soccorse l'alunna a giudizio il professore la ragazzina fu costretta a tre mesi di inattività dopo un salto dalla spalliera a Castel di Sangro di sboscamento selvaggio multe a raffica prima pagina dedicata a Pescara il progetto porto 3 milioni per il dragaggio finanziamenti in arrivo per il rilancio dello scalo già definito anche l'appalto per una barriera soffolta l'operazione più attesa prevede una sinergia con Ortona per lo smaltimento della vasca di colmata e il ripascimento e vediamo su questo l'annuncio appunto di ieri nella sede di Confcommercio Padovano soddisfatto a nome dei balneari appunto c'è stato l'annuncio perché c'è stato il ministro a Pescara il ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini che ha appunto annunciato l'arrivo di questi fondi vediamo il servizio di Paolo Renzetti oggi c'è questo importante convegno in Confcommercio a Pescara per parlare di porti ci sono importanti novità proprio per il porto di Pescara novità di queste ultimissime ore stiamo lavorando al piano regolatore generale in attesa che la regione Abruzzo invia la documentazione che è stata richiesta ma la notizia di oggi è che proprio stamattina il provveditorato alle opere pubbliche dà il via libera a 3 milioni e mezzo di finanziamento che riguardano opere propedeutiche alla valorizzazione del piano regolatore generale nelle ultime ore è arrivata un'altra notizia che riguarda invece il porto di Ortona all'arrivo di fondi per il dragaggio non solo anche la sinergia che potrebbe essere realizzata tra pubblico e privato per l'intervento ma soprattutto la possibilità di creare una rete forte tra Ortona Vasto e Pescara Vasto ed Ortona sono due porti che hanno caratteristiche regionali Pescara è un porto che ha peso nazionale ricordo volentieri che nella riforma delle autorità portuali tra Ancona e Bari 500 km di costa il porto più significativo lì nel mezzo è per l'appunto Pescara ricordo anche che i grandi investimenti vengono fatti proprio nei corridoi europei che piovono in Italia sono quattro e Pescara si trova proprio all'interno di uno dei più significativi quello che collega il nord dell'Italia Trieste Venezia scende verso Ancona e da lì raggiunge il Mediterraneo il basso Mediterraneo fino a Bari e da Lecce aggiungo anche che Pescara non solo ha il porto ha un aeroporto che ha dei dati migliorati rispetto all'anno scorso nel 15 registriamo circa un 10% in più di traffico di traffico passeggeri ed è un fatto positivo e poi naturalmente l'altro nodo importante è l'autostrada torniamo al quotidiano dell'Abruzzo del centro per vedere le prime pagine dedicate alla provincia di Teramo ecco la prima pagina del centro schianto morti marito e moglie come abbiamo visto prima tragico frontale sulla Teramo Montorio avevano 74 e 71 anni centro pagina la fotonotizia nelle cronache in Silvi adesco 15enne sul web assolto in appello in Teramo l'università dà il via al corso arte e spettacolo partirà nel 2016 e sempre in Teramo la maggioranza si ricompatta su Di Sabatino respinta alla sfiducia al presidente del consiglio vediamo se riusciamo a vedere la prima pagina dedicata alla provincia di L'Aquila Vezzano e Sulmona così concludiamo con le quattro prime pagine del centro eccoci nella prima pagina Banca Etruria ha chiesto il sequestro il comitato di Pizzoli sono 1500 risparmiatori aquilani in ginocchio in centro pagina la fotonotizia portiere del Sulmona arrestato con la cocaina un controllo dei carabinieri nel riquadro il portiere appunto della squadra nelle cronache indagine contabile sugli affitti gonfiati in L'Aquila e quindi all'università sempre all'Aquila il bus è senza pedana disabile resta a piedi torni in parte no degli ambientalisti alla stazione sciistica in Avezzano acqua caccia ai furbetti Marsica in 10.000 non pagano le bollette dell'acqua ed ora torniamo al messaggero eravamo nella pagina appunto dedicata a Pescara nella prima pagina entriamo all'interno vediamo l'inchiesta Asl Marullo nei guai per presunta truffa corte dei conti false presenze sul lavoro ma la procura ha chiesto l'archiviazione alla Caritas 20.000 euro per le famiglie indigenti a Montesilvano il comune punta sulla solidarietà per recuperare la figuraccia delle cassette messa di gloria con 150 coristi Natale in musica con Puccini stasera al massimo Pasquale Veleno dirige un concerto da non perdere luminarie d'artista a Pescara Vecchia e altre iniziative sempre in breve vediamo Guardia Alta Maxi Furto sventato da Buccione e la festa ancora le letterine dei bambini a Babbo Natale Postino la protesta gli insegnanti del classico no al comitato di valutazione ancora effetto crisi licenziato minaccia di buttarsi dal tetto del comune aveva perso il lavoro al Cosvega per una serie di assenze ingiustificate mattina di paura quindi a Francavilla il sindaco Luciani il comandante dei carabinieri Solmini l'hanno convinto a desistere prima pagina dedicata a Chieti nuova Carichieti rilancia 100 milioni alle imprese un doppio plafond presentato ieri alla Copp di Garanzia in vista mutui alle famiglie per case e prestiti il dirigente Zacconi le risposte in tempi brevi l'aggressione giovane preso a pugni nella villa comunale ragazzo di 17 anni finisce all'ospedale ma non è grave la vittima sostiene di aver perso i sensi e di non saper riconoscere chi lo ha picchiato indaga la polizia ed ancora vediamo la notizia che riguarda all'economia ancora attenzione nelle filiali la CGL impiegati minacciati Trivelli denuncia un clima pesante in serata accordo su esuberi e tagli al costo del lavoro per almeno tre anni onoreficenze il prefetto premia i venti cavalieri c'è il comandante Fazio Lanciano associazioni culturali piene di escort blitz della guardia di finanza certa che in realtà si trattava di verie propri night club con 18 prostitute i titolari sono stati pesantemente sanzionati con multe superiori ai 100 mila euro richiesta la sospensione delle licenze vasto ricercatori cotir senza stipendi oggi il corteo di protesta in regione da 22 mesi i 27 dipendenti senza emulamenti continua lo sciopero della fame accesi anche 8 ceri a Lanciano il seicentesco presepe Antinori torna al splendore dopo il restauro prima pagina dedicata a Teramo il dramma schianto frontale sulla strada statale 80 muoiono marito e moglie le vittime sono Dino Goli di 74 anni e la consorte Anna Maria Giugno di 71 erano a bordo della loro Fiat 500 l'auto è finita sulla corsia opposta e in comune di Sabatino non passa la mozione di sfiducia e quindi la mozione di sfiducia ricordiamo avanzata dalla Cardelli che fa parte in comune consigliera del gruppo misto di opposizione ieri appunto il consiglio comunale dove questa mozione di sfiducia al presidente del consiglio appunto non è passata non è passata dopo le quattro votazioni 12 a favore della mozione appunto di sfiducia 19 invece i voti contrari ma ascoltiamo nell'intervista il consigliere Pomante consigliere Pomante oggi un consiglio comunale un po' acceso dove è emersa una sua posizione incerta opposizione maggioranza cosa succede come avevo preannunciato oggi mi sono messo in castigo vicino allo stenografo all'opposizione dell'opposizione e all'opposizione della maggioranza quindi sostanzialmente sono rimasto da solo e la motivazione è che non condivido assolutamente dal punto di vista personale un attacco del genere ad una persona come Milton di Sabatino indipendentemente dagli errori che possa aver fatto durante la conduzione del consiglio i consiglieri Marroni Cardelli e Berardini cavalcano questo astio personale che hanno per gli scontri avuti con il presidente il PD cavalca la tigre per cercare di portare scompiglio nella maggioranza nella maggioranza c'è stato chi ne ha approfittato per cercare di mischiare le carte con il fine obiettivamente meschino di arrivare ad una poltrona probabilmente proprio alla poltrona del presidente del consiglio io a questi giochi non ci sto non mi piace questo tipo di politica probabilmente sono troppo idealista per fare politica resterò in consiglio a far danni proprio per far vedere ai cittadini la differenza tra chi pensa che la politica sia un sistema un mestiere elegante un mestiere in cui servano soprattutto lealtà ed onestà e chi pensa invece di volgere a proprio vantaggio tutte le situazioni che si pongono all'ordine del giorno senza preoccuparsi del bene della città e del bene dei cittadini quindi non firmerà la mozione di sfiducia voterò contro la mozione di sfiducia perché ripeto l'ho già detto è una porcata politica che a meno assolutamente non piace se fosse stata scritta argomentata in maniera diversa probabilmente avrei votato anche a favore ricorrendo nei presupposti giuridici e formali in questo caso io ritengo che sia proprio un atto irricevibile sotto ogni punto di vista andiamo avanti con il messaggero Giulianova tassa di soggiorno il fronte dei comuni ormai è favorevole mancano soltanto le adesioni di Roseto e Tortoreto le risorse dovranno confluire a sostegno del turismo il cittadino governante si schiera contro la piscina per i sull'arenile in breve sequestrati giocattoli e luminari e blitz della guardia di finanza al badriatica nuova segnaletica per gli invalidi ancora Giulianova pulizia della città cittadini multati e si scopre che sono sempre gli stessi elevate 50 contravvenzioni nuovo appello dell'assessore Ruffini intanto è pronto il nuovo ecocalendario ecco dove può essere ritirato Roseto la Onlus di Remigio ha raccolto 50.000 euro ancora in breve Tortoreto telecamere sorveglianza il voto è all'unanimità ed ora passiamo invece al quotidiano della provincia di Teramo vediamo in apertura il quotidiano della provincia di Teramo la città quindi restiamo sulle notizie regionali in apertura Brucchi tiene alla prova del voto la mozione contro il presidente del consiglio come abbiamo visto respinta con 19 voti avanti verso la nuova giunta in centropagina la fotonotizia contro romano contro un sub l'incidente moglie e marito perdono la vita al bivio per Frondarola tornavano a casa Teramo maglia nera nelle assunzioni il Cresa nel quarto trimestre del 2015 il saldo segna meno 17% entriamo all'interno vediamo la pagina dedicata alla regione quindi Cresa Teramo maglia nera nelle assunzioni dati relativi al quarto trimestre del 2015 fotografano un saldo negativo tra entrate e uscite dal mondo lavorativo meno 17% e sempre in regione l'Aquila variazione di bilancio bipartisan i grillini protestano in consiglio il provvedimento approvato prevede fondi per interventi su strade scuole e piccole realtà culturali Pescara cronaca Pescara nella cappa della puzza per il forum è un H20 è un reato vediamo poi meglio questa notizia Università unite lancia la sfida al prossimo triennio il rettore Luciano D'Amico ieri alla conferenza di fine anno puntiamo ad essere attori protagonisti nello sviluppo del territorio ha dichiarato e su questo articolo ci fermiamo perché abbiamo il contributo video Rettore oggi presentate i dati 2015 si chiude un anno positivo per voi ma probabilmente l'attenzione è già rivolta verso il 2016 che già sta dando numeri più che confortanti quest'anno siamo esattamente al giro di boa del mandato del programma di mandato sono trascorsi tre anni il 2013 lo abbiamo dedicato a superare una situazione di emergenza il 2014 abbiamo consolidato le posizioni dell'ateneo il 2015 è partito in modo significativo lo sviluppo dell'ateneo sulla base di questi dati possiamo definire la seconda parte del programma di mandato cercando di realizzare un cambiamento lo definirei un cambiamento di pelle dell'ateneo oggi siamo saldamente ben posizionati nelle principali classifiche nei principali ranking di valutazione dobbiamo porre l'università di teramo nel gruppo di testa delle università che stanno accettando la sfida del futuro ecco perché tra le linee di sviluppo di cui parlava prima c'è anche la componente fondamentale del post lauream c'è la componente del post lauream non solo come corsi di specializzazione master o dottorati ma davvero come quella fase di collegamento tra il momento del conseguimento della laurea tra gli studi universitari e l'ingresso nel mondo del lavoro su questo dobbiamo lavorare moltissimo è una sfida che interessa l'intero sistema universitario nazionale e che cerca di proiettare il sistema universitario nazionale nel futuro per quanto riguarda le immatricolazioni parlavamo di numeri numeri importanti poco inferiore alle 2000 immatricolazioni e iscrizioni al primo anno è un numero assai soddisfacente lo definirei persino un po' elevato rispetto alle dimensioni dell'Ateneo la sfida per il prossimo triennio sarà una sfida anche di tipo qualitativo gli iscritti dell'Ateneo provengono per un terzo dalla città e dalla provincia per un terzo dalle altre province della regione Abruzzo e per un terzo da fuori regione dall'estero il nostro obiettivo è potenziare gli iscritti che provengono da altre regioni e gli iscritti che provengono da paesi stranieri perché portare a Teramo le migliori risorse da tutto il mondo a studiare e auspicabilmente anche a rimanere poi qui a Teramo creando forme innovative di impresa piuttosto che nuove modalità lavorative è un obiettivo che fa bene all'università ma che fa bene soprattutto al territorio e giustifica la presenza di una università nel territorio ed ancora dal quotidiano della provincia di Teramo la città vediamo assolti i due dipendenti di Equitalia a Pragma nessuna asta truccata e niente accordi il giudice respinge le richieste di condanna della procura e formazione 30 talenti per l'archeologia formati da unite con i fondi FSS stamattina alla facoltà di scienze della comunicazione all'università di chissuti di Teramo appunto si terrà il convegno conclusivo del progetto di formazione multiasse talenti per l'archeologia andiamo avanti i ladri svaliggiano la villa di un cardiologo ladri agiscono indisturbati al piano di sopra mentre la padrona di casa riceveva un ospite in salotto cittadini esasperati dai furti notturni si organizzano contro i ladri come già avvenuto a Isola e Castelli ronde a Montorio il consiglio regionale invece sprechi di cibo e carburante per i disabili approvate due proposte di Mariani Teramo Brucchi tiene la prova del voto su Milton la mozione Cardelli contro il presidente del consiglio respinta con 19 voti maggioranza più pomante come abbiamo visto prima e il dopo Milton mai pensato alle dimissioni ha dichiarato il presidente del consiglio si toglie più di un sassolino dalla scarpa io imputato del nulla rompe il silenzio il mio mandato nelle mani della maggioranza come sempre stato ringrazio tutti compreso il sindaco e pomante e vediamo Teramo Ambiente durante le feste natalizie cambia il porta a porta e ancora multidisabili in ZTL primi annullamenti contravvenzioni a chi esponeva il pass europeo sul cruscotto Manola che è il consigliere d'opposizione del Partito Democratico a Teramo mezzo milione di euro di pasticci crona che investe uno scooter in viale Crispi poi fugge ed ancora andiamo alla pagina dedicata alla provincia Montorio 500 contro su muoiono moglie e marito di nome come abbiamo visto prima Anna Maria a giugno vittime di un frontale lungo la statale 80 dopo la galleria di Frondarola giudiziaria morte nella galleria di Piaganini anche l'ANAS rischia di andare a processo tra gli indagati per l'incidente che lo scorso anno è costato la vita al boscaiolo 34enne di Nerito Matteo Ceci nella foto ed ancora vediamo il maxi sequestro di prodotti natalizi il blitz della guardia di finanza anche in diverse attività della Val Vibrata prodotti pericolosi sono oltre 300.000 i prodotti senza marchio ce e pericolosi che stavano per essere immessi sul mercato in breve Civitella consegna farmaci a domicilio per anziani disabili e neomamme e tra gli eventi i ballerini di tango si danno appuntamento a Tortoreto Sant'Egidio i scontati in concerto questa sera al Deja Vu il duo nato come omaggio a Paolo Conte torna ad esibirsi dal vivo a Sant'Egidio appunto ed ancora vediamo Giulianova Rezco toglie il salvagente a Mastromauro nessun contributo per la sesura del bilancio non partecipo allo Sfacelo ha dichiarato la partecipazione il sindaco aveva chiesto a tutte le forze politiche e sociali di collaborare nella politica finanziaria e sempre a Giulianova l'incontro comuni costieri d'accordo sulla tassa di soggiorno il 40% delle entrate sarà utilizzato per interventi concordati con gli albergatori vediamo in breve Arboretti contrario anche all'impianto per i sub al Molo e a Mociano Sant'Angelo nuovo esposto contro la puzza la puzza che proviene dal Cirsu ed ancora a Giulianova gli studenti giuliesi incontrano l'autrice Gabriella Santini oggi alle 18 nei locali della distilleria del Sapere ed ancora vediamo ad Atri assolto per la fuitina con la 14enne sessantenne di Torino scagionato in appello per un difetto di querela la fuga la ragazza era scappata per tre volte in otto mesi raggiungendo l'uomo conosciuto in chat raccolta fondi a Roseto dona una segreteria telefoni e fax al centro antiviolenza e sempre a Roseto a Montevagano apre il primo ristorante diffuso nel borgo il nuovo locale dello chef Davide Pezzuto e di Nuccia De Angelis Silvi per l'amministrazione è una tale di polemiche ad animare la discussione illuminazione ponti mai completati strade dissestate e il PRG in attesa di approvazione Enrico Marini il piano regolatore lo ha deciso la sinistra e ora la stessa sinistra non lo vuole più approvare e questa la denuncia Sacro e Profano a finire nella bufera anche la donazione di alcuni quadri alla chiesa di Silvi Marina a Pineto vediamo nel taglio basso la polemica tra associazione commercianti e comune è una farsa il Movimento 5 Stelle non crede ci siano attriti si tratta di un comitato elettorale rappresentato in maggioranza e con questa pagina torniamo al messaggero per vedere la pagina dedicata allo sport Abruzzo Sport appunto Pescara Benali vuole tutto il centrocampista prenota un finale danno alla grande il Delfino può fare nove punti nelle prossime tre gare ho impiegato un po' per trovare la forma ma ora sto bene e gli applausi ricevuti all'Adriatico mi rendono orgoglioso e questo quanto ha dichiarato e noi sul Pescara abbiamo l'intervista rilasciata da Ugo Campagnaro ascoltiamo Ugo Campagnaro si avvicina a questo derby con la Virtus Lanciano sarai disponibile per questa partita molto probabilmente in campo sì non so se in campo però disponibile già buono per me perché da un po' che non mi potevo neanche allenare col gruppo però il problema è il polpaccio adesso è tutto a posto e niente questa settimana mi sono allenato tutti i giorni per sabato dovrei essere disponibile c'è tanto bisogno nel Pescara di Campagnaro anche perché quando è giocato il Pescara non solo ha sempre vinto ma non ha mai preso gol sei un po' l'amuleto di questa squadra sì ma coincidenze del calcio però a me piace pensare sicuramente che quello che si fa in campo dopo ha i suoi frutti noi ci impegniamo al massimo io come giocatore di esperienza cerco più che altro di organizzare la difesa e niente ognuno fa il suo però ci sono tutti i giocatori siamo importanti ma nessuno imprescindibile queste ultime settimane dalla tribuna che Pescara hai visto no mi è piaciuto tanto magari stiamo facendo un pochettino più fatica fuori cassa e buono sono cose che bisogna trovare la soluzione magari un fatto mentale però io penso che prima o poi questa squadra troverà la forma e andrà a vincere anche fuori cassa nella tua carriera hai giocato tanti derby importanti sentitissimi in Italia in Argentina sabato c'è questo derby tra Pescara e Lanciano una partita importante anche perché incontrerete una formazione che non può permettersi passi falsi e soprattutto un ambiente molto caldo sì sicuramente troveremo questo un ambiente molto caldo poi sappiamo quanto conta il derby per i tifosi e allora bisogna fare la partita della vita perché sappiamo che anche loro faranno lo stesso e appunto sul derby vediamo l'articolo sul Lanciano da Versa Lanciano niente paura per noi è una gara importantissima ha dichiarato appunto da Versa situazione dura ma di sicuro non ci arrenderemo così presto e noi con la serie B ci fermiamo termina qui la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti